Una notizia che per quanto potevamo aspettarci ci ha riempito di gioia. L'episodio del sequestro e quindi del rilascio è durato una settimana, che sembra infinita, perché per chi vive direttamente queste cose il tempo sembra non passare mai. Il difficile è stato quello di gestire la tensione qua, per quanto riguarda le bambine che sono state bravissime, per quanto riguarda la mamma non bisogna dire niente, è veramente una signora che ha avuto più forza di tutti gli altri a gestire anche l'ansia di un avvenimento così complesso. Non so poi Giuseppe cosa vorrà, sicuramente almeno un bicchiere di vino insieme lo berremo, se non altro per lo stress che abbiamo accumulato. Mi auguro che, come sarà nel suo stile, sarà di poche parole, berremo un bicchiere insieme e comincerà a lavorare come ha sempre fatto da 40 anni a questa parte e non credo che mi chiederà subito il rinnovo del passaporto per tornare in Nigeria.